Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gene, e siamo tornati su Minecraft, e si sta facendo notte, no ancora, vabbè, e mentre aspettiamo notte vi spiego subito cosa faremo in questo episodio. Allora, io andrò a sostituire tutta questa cosa qua, con questo legno qui, perché ho cominciato a fare la base solo, per capire come deve venire il perimetro, della torretta d'avvistamento di cui vi ho parlato nello scorso episodio. E sarà molto semplice, lo farò in legno di quercia, e già ho in mente un design interessante. Adesso saliamo in montagna, saliamo, e vi faccio vedere come deve venire. Non sarà neanche altissima, perché già comunque siamo in alto, quindi non ho bisogno di fare una torretta alta chissà quando, quanto, chissà quanto, scusate. Quindi è comunque una cosa giusta per bellezza. Ecco, cosa dovrebbe venire, quindi ci vediamo quando avrò sostituito tutti i blocchi. Ok, la prima discesa è fatta, quindi adesso salgo. Praticamente devo fare così per altre tre volte, fino a quando non arrivo qui. E poi qui si va a mettere ovviamente, se non mettermi i ciotoli, cioè la cobblestone. Comunque ragazzi, mentre vado, scusate, mentre vado a prendere l'altra abetulla, perché è quella che io non mi basta, e ho notato che qua vicino abbiamo poi il bioma, quello con gli abeti. E quindi, cioè, potremmo fare anche quel legno lì. Solo che ho un gioco brutti. Anche se, giocando senza difficoltà, giocando in difficoltà pacifica, gli scaletti non ci sono, però, magari, quello è una mela? Perché mi sono fatto un giro per abbattere querce, che mi servivano. Comunque ragazzi, mi ricordo sempre che, se volete, potete fare delle collaborazioni a te, però vi chiedo solo, gentilmente, se lo riblocco, comunque, riblocco sempre. I miei video, sotto i miei video, non voglio pubblicità di altri canali, ok? Se volete farvi pubblicità, fate, vabbè che io non ho così tante persone che guardano i miei video, però, se volete farvi pubblicità, fate un video con me e basta. Grazie, eccoci in cima, adesso ci buttiamo, anche male, e continuiamo. Allora, io ho un design in testa per la torre, però, siccome non la compliterò di sicuro in questo episodio, vi potete consigliare un design, magari, per il tetto. Quindi, commentate. Ragazzi, questa è l'ultima colonna di blocchi. Ok. E aspettate, qua non mi lascio, ovviamente. Ah, me la potevo craftare, scusate. Quindi, me la crafto. E mi ero già preparato gli scalini da andare a mettere. Ai! Ovviamente, se non ci facciamo male, non siamo felici. E se non sbagliamo, soprattutto, siamo ancora più felici. Quindi, vabbè, premendo, almeno furtivamente, dovrei riuscire a farcela. Ok, eccoci qua in cima. Quindi, ragazzi, siamo a 5 minuti. Quindi, potremmo fermarci qui, perché poi la posizione della torre richiede più tempo. Quindi, credo che questo video uscirà oggi, sabato, sabato. E domani, domenica, perché poi c'è gente che lo vede anche qui, e uscirà il video della torre. Quindi, ragazzi, con questo bel suono, io vi saluto. E se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, commentate, iscrivetevi, se ancora non siete iscritti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie. Grazie.